Raffaele ragazzi buongiorno Raffaele iniziamo questa bellissima settimana con un articolo bellissimo so che tu ci tenevi tanto a sponsorizzare quest'articolo curiosità esatto io ho detto al direttore se io faccio vedere i nostri follower dallo scatolo rende paura e ve l'ho tirata fuori dallo scatolo proprio per i follower una bambola gonfiabile semirealistica facciola vedere allora questa non è quella semplice gonfiabile perché questa c'ha le braccia rigide a bocca siliconica anche la perfetto siliconica la facciamo vedere anche dalla scatola possiamo dire il prezzo il prezzo l'abbiamo messo scontato 250 dove la troviamo nei nostri store casone e pozzuoli e sul sito la puoi ordinare dal sito www.tempiodelleros.com guarda quanto è reale ma pure la bocca morbida guarda perfetto noi facciamo spedizione consegna domicilio diamo possibilità del pagamento in contrassegna e per il prezzo se magari eccessivo noi realizziamo anche con clan ragazzi vi lascio alla bambola ciao